Ciao ragazzi, sono David, sono nella sede di pregassona della Hena Beggers Got a Drum School. Ci siamo trovati qua sabato con gli allievi che faranno gli esami Trinity. Sabato 16 dicembre 2017, c'eravamo io, Romano ed Ena. In questo breve video parleremo un po' degli argomenti che dovete avere in chiaro per fare l'esame, e soprattutto farlo bene, con la distinzione, perché questo è il nostro obiettivo. Le divisioni che dovete sapere assolutamente bene sono quarti, ottavi, terzine e sedicesimi, perché qua iniziano ad esserci anche le terzine, quindi è importante avere un buon controllo di questa divisione. Ma anche figure mischiate tra ottavi e sedicesimi, quindi come può essere la figura 2, la figura 1 andando in ordine con la figura 2, la sincope, l'ottavo, il levare, tutte queste cose qua devono essere molto molto chiare, ok? Anche a terzine. Bisogna avere in chiaro il significato del punto. Quindi, la nota aumenta il proprio valore della sua metà. Insomma, avete capito, no? È importante che sappiate il significato del punto. Quindi, quarto puntato, ottavo puntato, sedicesimo puntato, in qualsiasi situazione. Il 12 ottavi in questo grade è importantissimo, quindi se aggiunge questa metrica dovete avere bene in chiaro questo tipo di argomento, perché una canzone è tutendo i 18 ottavi, ok? Ed è, peraltro, un technical focus, se non erro. Dovete iniziare ad avere un po' di dimestichezza con i segni, quindi dal segno al coda, tutti questi simboli qua. Dovete imparare l'uso del cross stick, le aperture del hi-hat, quindi questa cosa è molto importante. Non è facile all'inizio abituarsi, però dovete capire che non è a caso. C'è un punto di apertura, un punto di chiusura. Flam. Questo argomento è importantissimo anche per i grade che arriveranno, ok? Quindi. Con una bacchetta si parte alti. Downstroke. Con una bacchetta che fa il flam, si parte bassi e si rimane bassi. Quindi tapstroke. Dinamiche. È molto importante gestire bene le dinamiche, con i vari crescendo, diminuendo, tutte queste cose qua, ma anche tra una sezione e l'altra. I BPM che verranno utilizzati in questo grade vanno da 50 BPM a 160 BPM, quindi tutto quello che abbiamo visto, in teoria, dobbiamo riuscirlo a fare dentro questo range, ok? Spero di esservi stato utile. Come ho già detto in precedenza, questa è una piccola ricapitolazione di quanto voi dovete sapere per il vostro grade. Nel caso non aveste preso nota, fatelo ora o andate a ripescare questo video, perché è molto importante. Si partirà dal presupposto che voi queste cose già le sappiate quando entrate nella stanza per fare l'esame! Ciao ragazzi!